Prevenzione e informazione sono questi cardini del progetto salute della regione Abruzzo che questa mattina nel corso di una tavola rotonda ha illustrato ai cittadini l'importanza dei controlli sanitari abbinati anche ad un corretto stile di vita. Oggi presentiamo il piano di prevenzione 21-25, un piano che possiamo tradurre proprio in promozione della salute perché è fondamentale la comunicazione, la comunicazione che deve avvenire attraverso messaggi precisi, definiti ma soprattutto deve passare attraverso la consapevolezza dell'importanza della prevenzione. Per prevenzione partiamo dai corretti stili di vita per poi arrivare a tutto ciò che è lo screening, tutto ciò che è un'attenzione sulla sicurezza dei posti di lavoro e soprattutto un coinvolgimento totale della società che parte da una sinergia, interazione tra la scuola, i contesti che partono dall'età infantile fino all'adulto perché attraverso la prevenzione si avrà la qualità della vita e la salute. Prioritario tornare ad effettuare controlli e screening soprattutto dopo l'emergenza sanitaria. La pandemia purtroppo ha bloccato quella che è un'attenzione riguardo ad esempio allo screening, un'attività invece che noi abbiamo messo in piedi, che stiamo recuperando, abbiamo recuperato ben il 63% degli screening oncologici che in questo periodo erano stati sospesi. È importante come dicevo un percorso di sensibilizzazione perché la prevenzione porta non solo al corretto stile di vita, significa avere una qualità di vita, significa un invecchiamento attivo, invecchiamento attivo che va attraverso una riorganizzazione come abbiamo fatto con convenzioni, con università, strutturare delle palestre ad hoc, palestre finalizzate sia a un intervento di prevenzione ma anche attività fisiche per coloro che hanno avuto già delle problematiche complesse.